si il prossimo dice sempre si si uff caldo caldo molto caldo molto caldo c'è un po' un po' Grazie. Anche io, perché qua c'è il freschino, ma qua è Francia, o no? O lì, è Francia. Il sentiero che è marcato di giallo, ovviamente, che va su. Però poi su, è abbastanza esposta, mi dicevano. Perché sta più in cresta? Non ho bene idea. Può anche darsi, vado in quei dietri là a sinistra, ma ci voleva un po' di forza. Ci sei sotto. Lì, forse, sembra un po' pulito. Qua si vede davvero il buon viso, via. Sì. Sì. Sì, non è molto, in effetti stabili. Sì. Matteo. Grazie. 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 Uh. Sì. 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 Sì.